Abbiamo creato molte occasioni dove abbiamo sprecato molto, a questo punto ci va stretto e potevamo fare di più. Ci meritavamo la vittoria, però è andata così, non so come ha fischiato questo fallo, se si fa un gioco o meno. La vittoria ci sembrava dalla parte nostra, ma invece abbiamo raggiunto un pareggio dove meritavamo di più. Si è aperto da qualche giorno il mercato trasferimento del Ciotoli, è sicuro che restiamo a Fadonia? Oggi si, per oggi sono un giocatore di Manfredonia, poi non so se il mercato si aprirà e me ne andrò, però non penso... Hai piacere di restare a Manfredonia? Si ho piacere di restare a Manfredonia, si si.